Salve amici dell'Atenza Italia, in questo video andremo a vedere il secondo esercizio della prova comprensione della lettura dell'esame CELI 3B2, sessione primaverile 2018. Nel video precedente abbiamo visto il primo esercizio con domande a risposta multipla, anche in questa parte vedremo un esercizio con domande a risposta multipla e seguiremo lo stesso ragionamento, quindi leggeremo la prima domanda, primo paragrafo, seconda domanda, secondo paragrafo e così via. Quindi Maria venendo in Italia sapeva che avrebbe avuto difficoltà nello studio, quindi difficoltà all'università o superiori, dipende da quello che farà, che i suoi sogni sarebbero diventati realtà, quindi molto ottimista, che avrebbe avuto l'opportunità di realizzarsi o che avrebbe sofferto di solitudine. Mi chiamo Maria, forse la mia non è la storia tipica dello straniero che viene in Italia e che deve lottare per la sopravvivenza, però sicuramente tutti noi immigrati abbiamo in comune una cosa, la nostalgia di casa, degli amici con i quali abbiamo condiviso i momenti più belli della nostra infanzia. Avevo 22 anni quando sono venuta in Italia come turista e poi, sebbene avessi qualche dubbio, ci sono tornata per studiare. Avevo solo una valigia in mano e in testa tanti sogni. Il mondo era mio. Finalmente avevo un paio di ali con le quali potevo volare. Finalmente potevo organizzare la mia vita da sola, senza nessun aiuto. Quindi, che avrebbe avuto difficoltà nello studio? No, perché dice, aveva qualche dubbio, però non sapeva, non dice che il dubbio riguardava gli studi, perché lei dice che voleva ritornare per studiare. I dubbi ce li aveva, ma dubbi non sono, non significa che avrebbe avuto difficoltà nello studio. Il dubbio può essere anche l'integrazione in un nuovo paese, eccetera, quindi non può essere questo. Che i suoi sogni sarebbero diventati realtà? No, perché dice, sapevo che avevo dei dubbi, quindi quando hai dei dubbi significa che non sei sicuro che tutto andrà bene. Avrebbe avuto l'opportunità di realizzarsi? Sì, perché abbiamo visto, avevo un paio di ali con le quali potevo volare, organizzare la mia vita, eccetera. Quindi avrebbe avuto l'opportunità di realizzarsi. Avere un paio di ali significa avere una spinta, avere un obiettivo, che significa avere un'opportunità. Non significa che è sicuro che ci riuscirai, quindi ali sarebbero sinonimi di opportunità. Che avrebbe sofferto di solitudine? No, dice che tutti gli stranieri hanno nostalgia di casa, ma non che avrebbe sofferto di solitudine. Non dice che starò da sola, non avrò amici, eccetera. Sette. Maria racconta che dopo il suo arrivo in Italia ha svolto lavori riservati agli stranieri, questo sembra un po' razzista però come risposta, sempre più qualificati, quindi lavori sempre più, sempre migliori. Cioè comincio da, che ne so, barista e finisco per fare banchiere. Sempre meglio retribuiti, quindi che pagano sempre meglio, quindi comincio guadagnando 800 euro, passo a 1000, 1500, 2000, eccetera. A tempo determinato, quindi con contratti di uno o due anni. Studiavo a Perugia e lavoravo come tante altre ragazze straniere, prima come domestica, poi come babysitter. Dopo un anno sono venuto a Roma e sono stata assunta in un ristorante. Nello stesso periodo ho seguito un corso per diventare rappresentante. Per due anni ho lavorato come agente di commercio, ma la mia vera vocazione non era quello, anche se devo ammettere che ho imparato molto da quel lavoro. Inoltre, come del resto gli altri che avevo svolto fino ad allora, mi permetteva di vivere dignitosamente. Vivere dignitosamente significa guadagnare abbastanza per poterti permettere di pagare l'affitto, di mangiare, eccetera, ma non di essere ricco. Quindi non risparmiare, ad esempio, mangiare solo pane e acqua. Se mangi solo pane e acqua non stai vivendo in modo dignitoso. In modo dignitoso significa mangiare come le persone normali, non il pesce ogni giorno, quindi non sei ricco, ma dignitoso. Quindi non lo dice che erano sempre meglio retribuiti, perché dice semplicemente dignitoso, ma non dice che pagavano sempre di meno. Non dice nemmeno a tempo determinato, quindi non parla di contratti. Riservato agli stranieri, no, perché ristorante, rappresentante, eccetera, lavorano anche gli italiani, non è che lavorano solo gli stranieri. Sempre più qualificati, sì, perché ha cominciato come domestica e babysitter ed è finita per fare la rappresentante. E' agente di commercio, quindi un lavoro molto, molto migliore e sicuramente molto ben retribuito. Maria per lavorare nel sociale ha pubblicato un annuncio, ha superato una selezione, ha lasciato un lavoro interessante, quindi ha rinunciato ad un lavoro che era bello per fare quello. Ha rinunciato ai suoi sogni, quindi ha fatto qualcosa che non voleva fare, diciamo così. Continuavo a sognare e a voler qualcosa di diverso, non sapevo esattamente che cosa, ma sentivo che quello che avevo non mi bastava. Un giorno ho letto sul giornale un annuncio che mi ha incuriosito molto, un corso per mediatori culturali. Dopo aver frequentato le lezioni per un paio di mesi e aver affrontato una lunga serie di colloqui, mi sono trovato a lavorare in un mondo completamente sconosciuto, fino ad allora nel sociale. Quindi, volevo qualcosa di diverso, quello che avevo non mi bastava, significa che non può essere, ha lasciato un lavoro interessante, perché se fosse interessante non sarebbe insoddisfatta. Ha pubblicato un annuncio? No, lei ha cominciato a leggere annunci. Ho letto sul giornale un annuncio, quindi non è che l'ha pubblicato lei l'annuncio. Pubblica l'annuncio chi cerca, chi offre lavoro. Dice, cerco due camerieri. Lui lo pubblica, mentre chi legge per trovare lavoro, trova l'annuncio, ma non lo pubblica. E non possiamo nemmeno dire ha rinunciato ai suoi sogni, perché siccome non sapeva ancora cosa volesse fare e non era soddisfatta di quello che faceva, significa che non ha rinunciato ai sogni. Però ha superato una selezione sì, perché ha fatto vari colloqui. I colloqui sono selezioni, cioè tu vai ad un incontro, parli, ti presenti, spieghi il tuo curriculum, le tue esperienze, e alla fine ti possono assumere oppure no. Quindi è una selezione. Nel colloquio ci vanno 100 persone, magari ne vengono presi alcuni, non tutti. Quindi è una selezione. Attualmente Maria si è ben integrata, ha raggiunto i suoi obiettivi, ricorda con nostalgia i primi anni in Italia, scrive un libro per ringraziare chi l'ha aiutata. Ora faccio questo lavoro, non facile ma molto gratificante. Ogni tanto mio figlio mi chiede di raccontargli di me. Pensando al passato mi rivedo appena arrivata in Italia, mi vedo mentre leggo gli annunci sui giornali per cercare una casa o un lavoro. Mi ricordo i giorni di festa, quando la nostalgia si faceva sentire più forte. Sono passati molti anni, mi sono abituata a mangiare la pasta, ho cambiato le mie abitudini, condivido le preoccupazioni che in questo periodo di crisi affliggono tanti gli italiani. Ora sto scrivendo un libro ad un amico e sto scrivendo un libro e un mio amico mi ha dato un bel consiglio. Sarebbe bello se tu regalassi una copia del tuo libro a chi ti aveva detto che non eri in grado di fare niente. Il libro non l'ho ancora finito ma ci sono tante persone alle quali regalerei volentieri qualche capitolo. Una parte dei miei sogni li ho realizzati, altri ce li ho ancora nel cassetto ma continuo a volare. Quindi non può essere per ringraziare a chi l'ha aiutata perché lo sta scrivendo per le persone che non l'hanno supportata, che le hanno detto non sei in grado di fare niente. Quindi che l'hanno ostacolata, non aiutata. Ricorda che nostalgia i primi anni in Italia? No perché dice, parla delle difficoltà che ha avuto mentre leggeva annunci, cercava casa, lavoro, sentiva nostalgia. Quindi gli inizi erano difficili, era un periodo brutto. Nessuno ha nostalgia per i periodi brutti, ha nostalgia per i periodi belli. Quindi no. E ha raggiunto i suoi obiettivi? No perché dice una parte dei miei sogni li ho realizzati ma ho ancora tanti nel cassetto, continuo a volare. Quindi non ha raggiunto i suoi obiettivi, ha raggiunto una parte dei suoi obiettivi. Perché se dice ha raggiunto i suoi obiettivi significa che li ha raggiunti tutti. Si è ben integrata, sì, perché dice si è abituata a mangiare la pasta come gli italiani, ha cambiato le abitudini, quindi aveva abitudini diverse, adesso si è integrata, quindi ha le abitudini degli italiani e condivide anche le preoccupazioni che hanno gli italiani in questa crisi, quindi sembra ben integrata. E poi il lavoro è gratificante, dice quindi riesce a farlo bene, se riesce a fare bene il lavoro significa che ti stai integrando nel lavoro. Ha un figlio, quindi probabilmente sposata, sembra secondo me integrata. Abbiamo risposto correttamente, le prime 5 erano dell'esercizio precedente. Nel prossimo video vedremo il terzo esercizio con due testi dove dobbiamo dire se l'informazione che leggiamo appartiene al testo A o al testo B. Intanto vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nel prossimo video con l'altro esercizio. Ciao! 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 Grazie a tutti